bella a tutti ragazzi io sono JANFYMAN e siamo qui con sto coso, con la web però si vede malissimo quindi vabbè comunque iniziamo a JANFYG, no vabbè ho scritto a caso stava per uscire PewDiePie vai giochiamo con Aikinator numero intero non corretto dai i numeri naturali dell'inzio MN non li conosci carica allora chi possiamo pensare a me, tanto non mi indomina il suo personaggio viene dall'Italia? Sì dai pensiamo a JANFYMAN sì il suo personaggio vive a Torino? No quello è Favij il suo personaggio è di Roma? Sì il suo personaggio è recitato in un film in cui ci sono dei robot? No il suo personaggio canta in spagnolo? io canto in spagnolo forse vediamo provo a cantare un attimo dove stai internet? hai pronti eh? cantiamo il mismo solo a parte che la già la so comunque va cantiamo che cavolo ok perfetto non si sente perché è vero avevo messo su impostazioni che non si ah no ecco è vero no ecco oh oh o mi o mi mi o o o mi o mi o o mi o o non la so basta 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 guarda stai sentendo in concerto in diretta il suo personaggio rapisce principesse ragazzi scrivete nei commenti se rapisco principesse comunque penso di no il suo personaggio a volte deve essere di rossa a parte capodanno no si ha un fratello vabbè avrei una sorella comunque il suo personaggio è magro si no per fa' complimenti però è nata junior no dai so jumpy man conosciuto con uno pseudonimo che cavolo è uno pseudonimo no come montare video il suo personaggio ha mai recitato in un film no per il momento no fa' parte dell'illuminati crew bella a tutti i ragazzi sono ma è xosha no no non faccio parte dell'illuminati crew il suo personaggio è coccia di voi so fidali no oh dai dai ah l'ha detto un suo personaggio è pari no ha un fratello angeles è famosa ok no il suo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza ancora no il suo personaggio fa parte di un duo eeeh no no a parte con alvaro soler faccio il duo alan vamos a kitolos estamos quindi faccio il duo con alvaro soler il suo personaggio è figlio unico no il suo personaggio è capelli chiari si arctic ma non sono arctic di minecraft io sono jamfiman no no sono indignato no non sono nessuno non è nella lista jamfiman il mio personaggio è jamfiman descrizione youtuber ok basta canzoni va ritorniamo su agario yo tu ma che checchio youtuber ok oh dai salve sonaginator per iniziare ragazzi io ho mandato per davvero jamfiman no ma l'ha accettato aspetta ora ci riproviamo dai dai no basta adesso andiamo su clever no vabbè scriviamo 42 proprio a caso il suo personaggio ha più di 26 anni no il suo personaggio è famoso abbastanza no però si vediamo se mi indovina è di torino no sono di roma sono di roma sono di roma vabbè ciao basta adesso facciamo facciamo una discrezione una discrezione una chat con Eevee così Eevee no pokemon madonna Eevee robot quello che ci fa uccidere dalle risate sì non la trova ma come si scrive Eevee Eevee pillo fatonna no no non c'è il bisogno della Eevee pillola c'è bisogno di un aspirino robot come si scrive Eevee ah è vero si scriveva Eevee perché mi esce perché mi esce quello della playroom ma vaffanci aspettate spostiamo la web e via oh ecco ma che si è vero bot toy vabbè ciao questo è Eevee Eevee oh ecco Eevee and boy bot ciao ehm ciao ciao cara Eevee ehm certo c'è ragione ma che cosa dici what about you oh che casa dici che casa allora ragazzi da oggi in poi non si dice più che cosa ma si dice che casa dici io dico ehm casa home sweet home no casa dolce casa io dico casa no no ah ciao mio nonno dice ciao mio nonno è un pap pap daccio no l'ho scritto ho scritto paepat io sono figo Eevee io sono figo robot non sono un robot no ma cosa vuoi bene ragazzi il video di oggi è finito qui con Eevee schifo bene ragazzi se il video vi è piaciuto grazie mille grazie mille se il video vi è piaciuto ciao ciao oh madonna non so più completare le frasi ma che è con già con bella oh madonna vabbè bene ragazzi lo concludo io bene ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito vabbè ciao bene ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito ok bella